Ben trovati, nuova edizione del TG Noi, quella del primo pomeriggio che apriamo con la notizia che arriva dal Consiglio regionale e ci porta al nostro sito noitv.it. Il piano cave viene stoppato con una decisione del Consiglio regionale. L'aumento del 5% della produzione non riguarderà il marmo ma interesserà solo i materiali lapide necessari per i lavori pubblici. È questo l'aggiornamento del piano deciso dal Consiglio regionale della Toscana ad introdurre lo stop all'aumento di produzione del marmo, una risoluzione del Partito Democratico che impegna la Giunta a non rivedere gli obiettivi di produzione sostenibile nei bacini marmiferi. Adesso andiamo a Pietrasanta, è stato individuato l'autore dei vandalismi sulle opere di Pomodoro. È un 42enne residente in zona e responsabile del vandalismo sulle statue dell'esposizione Segni Elementari, ospitata all'interno del Battistero di Pietrasanta. Le indagini, affidate i carabinieri diretti dal comandante Marco Colella, hanno portato in brevissimo tempo all'identificazione dell'uomo attraverso anche la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle strade adiacenti alla sede espositiva. Adesso il 42enne è stato denunciato penalmente e dovrà di rispondere di quanto causato davanti alla Procura di Lucca. Un'indagine lampo dunque, della quale l'archivio Gio Pomodoro, la Galleria Secci e il curatore della mostra Enrico Mattei, hanno voluto ringraziare le forze dell'ordine, così come l'amministrazione comunale e il proposto del Duomo Monsignor Roberto Canale. Una vicenda che aveva destato particolare scalpore lo scorso venerdì, quando il vandalismo venne alla luce, tanto da spingere il figlio di Pomodoro, Bruto, a minacciare di togliere le opere del padre a causa della scarsa vigilanza. Un danno comunque notevole quello apportato alle quattro opere e che i responsabili dell'esposizione avevano quantificato in circa 300 mila euro. Andiamo avanti, ci spostiamo a Firenze dove è stata presentata l'edizione 2024 del Lucca Comics. The Butterfly Effect sarà il tema dell'edizione 2024 di Lucca Comics and Games, che avrà anche un omaggio a Giacomo Puccini. La manifestazione, in programma dal 30 ottobre al 3 novembre a Lucca, è stata presentata a Firenze. Yoshita Kamano firma i manifesti dell'evento, realizzando tre immagini, overtour che segna l'inizio dell'avventura, crescendo con iniziative a Milano nel mese di settembre e un finale fantastico il 30 ottobre che aprirà il festival. Tra gli appuntamenti più attesi, quello legato a Squid Game 2 il 31 ottobre, il creatore, scrittore e regista Wang Dong-yuk e i protagonisti Li Yunye e Wee Ang Yun saranno a Lucca per incontrare ai fan e per svelare a tutto il mondo alcune novità della seconda stagione. Festeggiamenti anche per il 25esimo di One Piece, in occasione del compleanno di Monkey D. Luffy, il pirata dal cappello di paglia. Nozze d'oro per Dungeons & Dragons, con una mostra dedicata dal comune nel baluardo San Paolino. Il gioco Tetris celebrerà a Lucca il 40esimo anniversario, con la partecipazione del creatore, anteprima mondiale del 30 ottobre su Star Wars Unlimited, il gioco di carte collezionabili. I giocatori potranno vedere il nuovo set prima di tutti gli altri. Tra gli ospiti attesi anche Robert Lorenz, autore di Piccoli Brividi, che arriva per la prima volta in Italia per incontrare i suoi fan. L'edizione 2024 ospiterà poi tre editori stranieri da Francia, Stati Uniti e Taiwan. Spazio naturalmente anche al mondo dei manga, con Azushi Camillo, protagonista a Lucca. E adesso andiamo sulla banchina di Viareggio, la partenza della Viareggio Bastia-Viareggio, alla quale partecipa anche lo scafo Grifone della Guardia di Finanza. Ha preso il via a largo della costa Viareggina l'edizione 2024 della Viareggio Bastia-Viareggio, regata velica nata sulla scorta della storica gara a motore che cessò l'attività negli anni 90. Sette le barcazioni iscritte alla gara, tra cui quest'anno un equipaggio particolare. Ha infatti preso parte alla competizione il Grifone 3, imbarcazione della Guardia di Finanza, che il comando provinciale di concerto con il Roan di Livorno ha voluto iscrivere per celebrare i 250 anni dalla Fondazione del Corpo. Sì, è un momento importante per noi in occasione del 250esimo anniversario della Fondazione del Corpo e abbiamo pensato insieme ai colleghi del componente aeronavale che questo fosse il contesto ideale per far partecipare l'unità navale Grifone 3 in una gara velica, nazionale e internazionale di assoluto prestigio. L'imbarcazione ha ricevuto anche la visita, il giorno prima della partenza, del comandante regionale di divisione Giuseppe Magliocco. Uno scafo che ha una storia molto particolare, essendo parte di un sequestro effettuato a un'organizzazione di trafficanti di droga. Sì, Grifone è una barca italiana varata nell'88 a Lavagna e veniva utilizzata proprio con lo scopo di fare traffico di sostanze stupefacenti dal Sud America. In uno di quei viaggi che faceva, grazie all'attività investigativa della Guardia di Finanza, del suo comparto aeronavale, è stata fermata, quindi è sequestrato il carico e poi successivamente una volta sequestrata è stata confiscata e la magistratura l'ha restituita nel possesso della Guardia di Finanza che la utilizza proprio per addestrare i propri uomini che intraprendono la carriera nella Guardia di Finanza nel suo comparto aeronavale, sia dal finanziere fino ad arrivare agli ufficiali. A Borgamozzano l'inaugurazione del Parco Mariani. Una grande festa per la misericordia di Borgamozzano, i confratelli e la comunità paesana. È stato inaugurato il parco di fronte alla sede donato alla confraternita dalla famiglia dell'ingegner Salvatore Mariani. Proprio per questo il parco ha preso il nome del suo donatore. L'intitolazione è avvenuta con l'installazione della targa che riporta il nome dell'ingegnere e lo stemma di famiglia. La cerimonia di scopertura si è svolta alla presenza del governatore della misericordia Gabriele Brunini, del sindaco Patrizio Andreucetti, la famiglia Mariani e tanti dirigenti e volontari della misericordia. Sicuramente uno spazio importante per la comunità, per tutta la comunità del comune di Borgamozzano e quindi da parte dell'amministrazione sicuramente un grazie alla misericordia di Borgamozzano e alla famiglia Mariani che ha messo a disposizione questo bellissimo spazio. È una donazione molto importante e noi oggi l'abbiamo voluta ricordare con una targa dedicata all'ingegnere Salvatore Mariani. Un ringraziamento particolare va alla moglie e alla figlia che hanno donato questo campo che è un'estensione della sede della misericordia. Su questo campo saranno infatti organizzati vari eventi, eventi culturali e sociali di cui la nostra misericordia è da sempre promotrice. Dopo gli interventi delle istituzioni e la benedizione di rito c'è stata anche la visita del governatore della Toscana Eugenio Gianni. Accolto dal sindaco, dal presidente della misericordia, Gianni si è complimentato con i componenti della confraternita per ciò che fanno per le comunità e le aree di interesse. Il parco Salvatore Mariani per l'occasione è stato protagonista anche di un partecipato evento gastronomico. Adesso andiamo ad Alto Pascio per un percorso espositivo che celebra l'arte al femminile. Sette secoli di arte, attraverso lo sguardo di grandi artiste di tutto il mondo, un viaggio attraverso le opere dagli inizi del Novecento ad oggi, capaci di mettere in mostra e far conoscere il difficile e spesso sottovalutato percorso delle donne nel mondo dell'arte. Questa è Pittoresse, mostra tutta il femminile che troverà spazio in sala Peregrinazio, in piazza ospitaliera ad Alto Pascio, fino al 29 ottobre. L'esposizione è curata da Bruno Ialune, realizzata in collaborazione con la cooperativa Mare, laboratorio di innovazione sociale e il sostegno del sistema museale territoriale della provincia di Lucca. Un'esposizione che verrà inaugurata venerdì sera. Il percorso espositivo presentato dal sindaco Sara D'Ambrosio si apre con una serie di ritratti dalle grandi artiste dei secoli passati, a cominciare da Antonia Doni, la prima pittoressa della storia, per arrivare alle artiste dell'impressionismo fino a Frida Caglio, in mezzo i quadri di 20 pittrici. Un'altra mostra ad Alto Pascio, siamo in sala Peregrinazio ed è una cosa che sta avvenendo sempre più spesso. È il segno che questa sala sta sempre di più vivendo come spazio espositivo per mostre di caratura locale, regionale, nazionale e, come in questo caso, internazionale. Allora, siamo per il secondo anno qui ad Alto Pascio. È un comune che si sta specializzando molto sull'arte contemporanea, sta diventando un punto d'eccellenza per il nostro territorio e quindi, come sistema museale della provincia, noi siamo particolarmente contenti di questi progressi che poi confermano un alto livello di qualità offerto da tutte le nostre strutture museali che stanno crescendo molto in questi ultimi anni, sia in termini numerici che in qualità dell'offerta. La mostra pittoressa è una mostra che ha richiesto quasi due anni di lavoro, di contatti con le artiste, con collezionisti. L'abbiamo postata un po' per tutti i tipi di visitatori, dagli appassionati ai ragazzi delle scuole. È quindi un percorso unico per chi è appassionato di arte da vedere con nomi eclatanti che, insomma, hanno richiesto un impegno notevole da parte dell'amministrazione, di noi curatori e della cooperativa Mare Labo per riuscire a portare queste opere qui. È un ringraziamento anche ai collezionisti e agli stessi artisti che ci hanno prestato le opere dalle loro collezioni e dai loro archivi. È tutto per il momento, ci fermiamo. Un breve break, ma tra poco c'è lo sport.